Il giorno dopo svegliarsi da sindaco come è stato? È stata un'emozione particolare, mi sembra ancora di vivere un sogno. Siamo partiti a ottobre dell'anno scorso, eravamo un gruppo di amici, abbiamo condiviso un progetto, sempre più persone hanno partecipato al nostro progetto civico e oggi siamo a governare Chiaveri, che è una delle principali città della Liguria. Mi sembra veramente un sogno, ringrazio tutti i chiavaresi che mi hanno dato fiducia, mettiamo una pietra tombale sul recente passato e ripartiamo per tutti. Si riparte dalla città, da Chiaveri, quali sono i progetti che ritieni più imminenti da avviare come sindaco? I progetti più imminenti, stando ai incontri che ho avuto in campagna elettorale con Roberto Levaggi, sarà quello di fare un passo ufficiale per reperire i 6.700.000 euro di finanziamenti regionali per la messa in sicurezza del Rupinano. Il sindaco Levaggi ha detto che andava fatto entro il 30 giugno, è una cosa che intenderò fare imminente. Poi formeremo la giunta, ho intenzione di coinvolgere nell'amministrazione tutti i consiglieri comunali, ricordo che a tutti che col progetto che abbiamo colpato per i chiavaresi avremo, io godrò di 12 voti su 17 disponibili, un'ampia maggioranza, un'ampia condivisione dei programmi, una garanzia per i chiavaresi sul futuro, sui progetti più in principali. Quali sono i nomi certi della sua giunta? I nomi certi della giunta sono della giunta di capo, saranno la dottoressa Silvia Stanig che sarà vice sindaco, l'assessore Gianluca Ratto e l'assessore dottoressa Fiammetta Maggio. Proporrò come presidente del Consiglio Comunale, se verrà votato, l'Avvocato Antonio Segalerba che avendo il Tribunale a Genova per impegni di lavoro non può garantire una presenza costante in comune, soprattutto la mattina. E per le altre deleghe ci sto ancora pensando? Per le altre deleghe adesso siamo ancora in preda ai festeggiamenti con la testa e vedremo adesso nel breve, scioglieremo tutti i dubbi.